Grazie a tutti. Alessio Vannucci, alternativa principale, va ricercata in seconda fila l'ultimo numero, Atos dei Greppi con Antonio Di Nardo. Vediamo i cavalli che vanno a formare lo schieramento. Quinta corsa dall'Arcoveggio, un miglio per quattro anni, in dieci al via uno Anachin del Brenta, due Abramo Petral, tre Aliprav, quattro Alba Chiara Dipa, cinque Amber Trio, sei Ameri Clemar, seconda linea, sette Actaro P, otto All About B, nove Alba dei Greppi, dieci Atos dei Greppi. Sferrata completamente Amber Trio, gli altri tutti da dichiarazione partenti. Parte molto forte Alba Chiara Dipa e si assicura così il comando delle operazioni davanti ad Amber Trio che a sua volta è partita molto bene, confermando l'ultima falsa partenza. Rimane invece di fuori per il momento Ameri Clemar che poi cerca di trovare spazio ma non ci riesce perché in terza posizione è serato sotto Aliprav. In quarta c'è Anachin del Brenta, intanto quattordici e otto per Alba Chiara Dipa che ora cerca di tirare i remi in barca, ventinove e otto il quarto iniziale con quindici di seconda frazione. Rimasta all'esterno, insomma al grado, Ameri Clemar deve risalire gradualmente ora che il ritmo è abbastanza blando e avvicina così i primi. Ma intanto 45-4, comunque ancora 15-6 davanti alle tribune, non ferma più di tanto. Antonio Greppi in sediolo alla favorita. A largo c'è anche Aliprav che ora viene via in terza ruota e lo prova a seguire Atos dei Greppi. Più indietro invece vediamo All About B, valli a metà per l'ultima curva dopo 800 metri in un minuto e tre decimi. 14-9 il parziale davanti alle tribune e ora 1-15-2 il chilometro, la via delle spiegate. Alba Chiara Dipa, 500 alla conclusione, in seconda posizione rimane Amber Trio, poi il grosso del gruppo. Vediamo ora Alba Chiara Dipa che affronta al comando la curva conclusiva. Conclusiva, a 300 dalla conclusione, in seconda posizione si mantiene Amber Trio ma è avvicinata. E siamo al completamento dell'addirittura d'arrivo. Alba Chiara Dipa in netta evidenza. La lotta è soltanto per il secondo posto. Alba Chiara Dipa da pronostico viene a vincere netta questa quinta corsa all'arcoveggio. Secondo posto all'interno per Atos dei Greppi che buca probabilmente Amber Trio. Andiamo a rivedere comunque l'arrivo. 1-14-5 il raguaglio conclusivo. Vittoria per Antonio Greppi e Alessio Vannucci. Alba Chiara Dipa a segno in percorso di testa. La vittoria è nettissima ma in discussione. Vedete, numero 4 al primo posto sul tabellone. Mentre per il secondo dovrebbe averla spuntata Atos dei Greppi. Ma andiamo a rivedere le immagini che ci mostra il replay con il ralenti. Il numero 10 al secondo posto. E per il terzo ancora il numero 5 Amber Trio che controlla il finale di All About B numero 8. Grazie. 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 Grazie.